Io gestisco il club del buttafuoco storico che è un consorzio di 13 produttori, una bella realtà presente in Oltre Papavese dove questi produttori sono riuniti per presentare questo grande vino che è un'eccellenza dell'Oltre Papavese. Parliamo del buttafuoco storico che è un vino rosso fermo che richiede la barrique invecchiato. Ci trovate oltre che qua a questo stand Alvin Italy prossimamente nella nostra enoteca che intanto vi faccio vedere rappresentata qua. È una location molto 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 carina, è una parte di un vecchio castello risalente al 600 dove noi organizziamo le nostre degustazioni per chi volesse venire a visitarci.